Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Caro Diario! Oggi partiamo a bomba e concludiamo la prima parte della mia esperienza all'estero, in Danimarca, nel 2014-2015. Partiamo! Oggi sono tornato a casa in bici con Kai, Kai sarebbe il mio compagno di classe, e abbiamo parlato del nostro futuro e io sto prendendo in grande considerazione la possibilità di tornare qua fra due anni. Quindi questa cosa, cari miei, è tornata già il giorno dopo, perché sempre con Kai, tornando a casa in bici, mi ha detto che da quando si ha 18 anni la scuola ti paga, quindi vedo sempre più possibile una permanenza qua. E questo era già quello che avevo nel pensiero 5 anni fa, quindi già a quel tempo avevo intenzione di tornare indietro. E la cosa appunto che mi ha sconvolto era la cosa che ti pagavano per andare a scuola, quello che è appunto l'SU, perché... Sì, io parlo dell'università, ma anche se fai le scuole superiori e hai già 18 anni, puoi già ottenere l'SU. Sempre quel giorno, l'11 settembre, scrivevo I giorni passano e io sto imparando sempre più parole danesi e riesco a capire meglio quando gli altri parlano. Già dopo un mese riuscivo a capire qualche parolina. 14 settembre, Vittorio è venuto a casa mia e abbiamo parlato tutto il giorno, ma tantissimo! E' stato bello passare la giornata con lui. Allora Vitto, che lo saluto, ciao Vitto, forza Parma, era un altro exchange student italiano. E veramente ragazzi, gli exchange student con cui condividete l'esperienza sono la vostra fonte principale di confidenze, discussioni, parlate lunghissime di ore e ore. Perché loro stanno vivendo proprio quello che state vivendo anche voi. E quella giornata praticamente abbiamo parlato tutto il giorno di tutte le cose, di tutte le cose possibili e inimmaginabili. E veramente quei momenti sono belli, cioè nel senso non puoi parlare in italiano mai praticamente. Arriva quel giorno e rinizia a parlare italiano. Incredibile. Un po' quello che faccio io con voi, cioè nel senso io l'italiano non lo parlo quasi mai, ma grazie a YouTube lo mantengo anche se lo sto perdendo. Il 15 settembre faccio una cosa un po' ambiziosa. Chiedo ai miei compagni di classe, Martin e Lorenz, di parlarmi in danese. E poi nei prossimi giorni lo chiederò anche agli altri. Molto ambizioso, cioè nel senso dopo un mese chiedevo ai miei compagni di parlarmi in danese. E questa cosa ragazzi miei è difficile. I danesi ti parlano quasi sempre in inglese, anche adesso che so il danese. Molto spesso mi vogliono parlare in inglese perché lo vogliono allenare. Cioè non è come se vengo in Italia e sono straniero, mi parlano in italiano perché è la loro lingua e vogliono che imparo l'italiano. No, in Danimarca è proprio il contrario. Vogliono esercitare l'inglese e quindi comunicano con te in inglese. Preferiscono comunicare con te in inglese. Ragazzi, poi una pubblicità che mi ha colpito nell'orgoglio. Sentitela. E non so se sia peggio questa, appunto, la pubblicità delle lasagne, oppure questo. Go to the bathroom. Another unbelievable thing. Adesso voglio dare qualche chicca della scuola. Oggi abbiamo giocato con le palline di tennis nell'ora di mate e la prof non ci diceva niente. Praticamente la prof ha portato delle palline da tennis per fare degli esperimenti in classe, per fare appunto in maniera pratica matematica. E doveva prendere la pallina e farla rimbalzare da diverse altitudini. E poi contare quante volte rimbalzava, una cosa del genere. E poi ovviamente noi così abbiamo iniziato a giocare, a lanciarcele, cose del genere. E lei tranquilla non ci diceva niente. Poi, sempre un'attività della scuola, siamo andati a fare un giro in città e poi abbiamo fatto canoa durante educazione fisica. Poi abbiamo fatto esperimenti in chimica strani. E niente, queste sono alcune delle cose che si fanno durante le lezioni alle scuole superiori in Danimarca. Sempre in quella settimana, il venerdì, c'è stato un torneo di calcio molto, molto particolare. Sempre a scuola. Io ho preso due birre e poi ho giocato. Noi eravamo vestiti da contadini. Con il baffo che ci stava un botto. Sì, perché adesso vi lascio la foto qua. La prima partita l'abbiamo vinta 2-0 e ho pure segnato. Ma per cause sconosciute non abbiamo più giocato. Ma è stato divertente. Gli altri erano vestiti in altri modi. Cheerleaders, militari, hippie, operai della centrale nucleare, da spiaggia e altri ancora. Veramente, ogni squadra doveva essere vestita in un modo stranissimo. Noi eravamo contadini, poi c'era di tutto e di più. Tutti ubriachi a giocare a calcio. È stata una cosa veramente unica. Poi non siamo passati perché eravamo del primo anno e quindi l'altra squadra eravamo più grandi. Avevamo conoscenze e li hanno fatti passare. Anche i prof hanno giocato. C'era Tania di chimica e Alexander di storia della mia classe. Sì, perché questa cosa che in Italia non succederà mai è che in molte feste, in molti eventi così, i professori partecipano attivamente. Adesso parliamo di alcune attività che ho svolto in famiglia con la mia famiglia ospitante. Dopo mangiato, io e voi e Glenn, che sarebbero i due fratellini, siamo andati a distruggere un camper. È stato bello perché mi sono sfogato. Vi lascio alcune clip del video. Non fatelo a caso, mi raccomando. Molto pericoloso. Non so perché l'abbiamo fatto. Siamo qua riniti a distruggire un camper. Qu'è, 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 qu'è. Bo, take it. No, I show you. Chiamo blanco, bianco. Matteo, bianco, 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 italiano. Matteo, can't! Oh, I can't see a glance light! Matteo, take this down. This? Yeah, the little one, you know. What a little hammer, Matteo. I love this game. Ah, il camper era l'oro. Cioè, nel senso, non era un camper di qualcun altro che siamo andati a distruggerlo. Il camper era l'oro, vecchio, e lo volhanno distruggere. Poi una sera siamo andati allo stadio. Ho pagato 60 corone, 8,50 euro, ed ero in seconda fila. Cioè, per farvi capire quanto costa un biglietto per lo stadio. Pensate che adesso, a vedere le partite qua, addirittura te li lanciano i biglietti. La partita è venita 0-0, un po' noiosa. Ma almeno ho visto come a uno stadio danese. Eccoci qua, il 22 ottobre con un piccolo aggiornamento riguardo la lingua danese. I progressi della lingua danese. Punto 1. All'inizio sapevo qualche parolina. Facevo fatica a conversare in inglese e non capivo per niente il danese. Punto 2. Fluida conversazione in inglese. Aggiunta di qualche parola danese mentre parlavo in inglese, ma mentre gli altri parlavano, per me erano troppo veloci e capivo praticamente una parola su cento. Terzo punto. Creazione frasi in danese, anche parlando. Alternanza danese e inglese. Quando gli altri parlano, non sembrano più veloci come una volta. E capisco. L'importante è che non ci siano parole che non conosco. Però il mio vocabolario è ancora ristretto. Quindi già dopo agosto, settembre, ottobre, due mesi e mezzo, diciamo, ero lì che stavo imparando il danese. A scuola, nell'ora di biologia, siamo arrivati in classe e c'erano delle bacinelle sui banchi. Io dicevo, che cavolo è? Poi mi avvicino e vedo un cuore di maiale. Un vero cuore di maiale, ragazzi. Non sto scherzando. Cioè, ve lo faccio vedere qua la foto. E ho scritto appunto che abbiamo esaminato un cuore di maiale. Non sapevo cosa fa... Cioè, non ho mai... Cioè, sono un po', diciamo... Mi ha fatto un po' ribrezzo. Però vedevo la professoressa che andava lì per farci vedere le valvole che c'erano dentro il cuore. Ce l'apriva, ce l'ho... Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Una cosa interessante è che durante il periodo invernale non si gioca più a calcio. Non si gioca più calcio all'aperto, ma si gioca solo al chiuso. Infatti, dal 3 novembre ho iniziato a giocare a calcio indoor a 5, perché fuori non si può più. C'è una lunga pausa, infatti anche il campionato professionistico danese smette. Adesso, magari, per via dei soldi così, si prolunga un po' di più e la pausa è più accorciata. Però, per esempio, adesso non stanno ancora giocando. Mi sembra che riniziano settimana prossima. Quindi, niente calcio all'aperto d'inverno in Danimarca, praticamente. Cosa importante è che la mia famiglia si era messa d'accordo con me, anzi, mi aveva obbligato. Da novembre dovevamo parlare solo in danese. Io ci ho provato, però a volte ovviamente bisognava tornare in inglese perché altrimenti non ci scapiva. Però, ufficialmente, dovevo parlare solo, solo in danese. Da novembre. L'undici novembre, ragazzi, sono andato a tagliarmi i capelli e ho tenuto una conversazione in danese col parrucchiere. Cioè, riuscivo a comunicare con persone esterne. Diciamo che per questo video il diario l'ho utilizzato abbastanza. Arriviamo alle conclusioni. Ho parlato principalmente di cose strane successe a scuola, attività un po' in famiglia e l'apprendimento della lingua danese. Vorrei soffermarmi principalmente su questo. Il danese è una lingua difficilissima ed è molto difficile da imparare. Prima di tutto perché i danesi preferiscono parlarti in inglese. Seconda cosa perché si leggi in un modo e si scrive in un altro. Se stai bravo a leggere in danese, un danese non ti capisce. Perché te pronunceresti le parole come sono scritte. Ma loro sanno la pronuncia di come le parole le ascoltano e le pronunciano. No, non funziona così, non si può leggere in danese. Si può semplicemente ascoltare e ripetere quello che ti dicono per impararlo. E questo può essere simile per altre lingue. Anche l'inglese secondo me è un po' così. Perché se leggi cat non è cat, è cat. Cioè, devi capire come lo pronunciano loro e ripeterlo. Per l'italiano invece è diverso perché per imparare l'italiano, nella maggior parte dei casi, senza contare il chi, gli, tutte quelle, come si chiamano, di tonghi? No, non mi ricordo più. A parte quelle eccezioni, pronunci le parole come le leggi, nella maggior parte dei casi. A volte sì, ci può essere vocale chiusa, vocale aperta, però in generale così. Mi sto accorgendo che anche il cieco è così, un po' come l'italiano, che pronunci quello che leggi. Invece il danese e l'inglese è diverso. Secondo me, imparare il cieco, l'italiano, sì, puoi leggere e ripetere ad alta voce. Perché probabilmente se sai come fa il suono di quel gruppo di lettere, allora lo pronunci bene. Ma in inglese e in danese, che ci sono un sacco di eccezioni, è più semplice imparare a parlare ascoltando e ripetendo. Invece che leggere e ripetere. Per questo video è tutto, ragazzi. Spero che vi abbia dato qualche curiosità interessante, almeno una piccolina così. E iscrivetevi al canale per sapere quando esce la prossima puntata di Caro Diario. Nella prossima puntata andremo appunto a vedere la seconda parte della mia esperienza. E ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Enjoy your life! Ciao!